Come ogni anno, l'Istituto Cenni Marconi di Vallo della Lucania suggellerà la fine dell'attività didattica e con la sfilata finale del corso Industria e Artigianato per il Made in Italy, dal titolo Baciamo le Mani. Una sfilata con un mood complesso e laborioso, abiti e creazioni che avranno la volontà di raccontare e illustrare la Sicilia, terra di cultura e di arte. L'intento degli allieve sarà quello di focalizzare l'attenzione degli spettatori sul ruolo delle donne, usare gli abiti come parole per narrare la metamorfosi della femmina, donna imbavagliata e costretta dagli stereotipi della società nel candore virginio di Santa Rosalia. Un messaggio di speranza e libertà per tutte le donne. Il corso Made in Italy dell'Istituto Cenni Marconi, da anni presente sul territorio, guidato dal dirigente professor Cosimo Petraia, banta prestigiose partecipazioni con partner illustri come il Parco archeologico di Pestum e altri enti. Le allieve sono state preparate e guidate nell'esecuzione di tale progetto dalla professoressa Mascia Milito, professoressa Giovanna Spinelli e professoressa Gerardina Leo. L'appuntamento dunque patrocinato dal Comune di Agropoli è per domenica 9 giugno presso il castello Angioino Aragonese di Agropoli.